Io farò la parte conclusiva appunto di questa giornata, un po' andando a riprendere quello che è già stato detto, un po' portandovi la mia esperienza lavorativa, proprio per spero di farti capire e comunicarvi quanto in realtà il vostro lavoro, che è il lavoro di chi, come è stato già detto, molto spesso arriva per primo sulla scena del crimine, è fondamentale per l'identificazione di un colpevole, per la ricostruzione di quelli che sono stati fatti anche a distanza di molti anni, perché per fortuna le scienze forensiche appunto vengono utilizzate per la risoluzione dei crimini avanzano e anche i delitti che sono stati commessi tanti anni fa possono essere risolti ad anni di distanza. Questo a fatto che quello che è stato rinvenuto sulla scena del crimine sia stato repertato e conservato nella maniera corretta e che quella scena del crimine sia stata cristallizzata anche attraverso le immagini il più possibile. Questo perché ovviamente anche l'attività giudiziaria e giuridica nel tempo si è molto complicata, prima di scendere i vecchi telefirmi, ma ovviamente ora il primo è un processo totalmente iniziale che oggi non esiste, perché in realtà oggi all'interno delle alle tribunali anche giustamente si cerca sempre di più la prova scientifica, una prova oggettiva o oggettivabile per poter accusare al di là di ogni ragionevole di dubbio o qualcuno. Come già vi è stato detto esistono innanzitutto varie scene del crimine, faccio una presentazione molto molto generica, come vi ha detto anche Marco esistono ovviamente scene del crimine in luogo aperto, questa è una scena del crimine molto datata del cosiddetto crimine del Canaro, non so se qualcuno di voi l'ha sentito parlare, è uscito, è stato fatto un film poco tempo fa, dove un corpo parzialmente carbonizzato, guardate come si interveniva sulla scena del crimine, beh qui siamo a fine anni 70, il periodo della banda della Mariana veniva rinvenuto in una discarica parzialmente carbonizzato per poi scoprire che in realtà quel corpo era stato ucciso nel negozio di toilettatura di animali del proprietario, cioè della vittima, torturato e ucciso e poi gettato col tentativo di disperderlo e parzialmente bruciato in questa discarica, vedete sigarette, nessun tipo di guanti, protezioni eccetera eccetera. Come già vi è stato detto un altro tipo di scena del crimine può essere appunto quella che si realizza in un luogo chiuso, ovviamente qua la cristallizzazione è molto più semplice perché non abbiamo tutte quelle che sono le varianti degli agenti atmosferici, del passaggio, come vi ha fatto vedere Marco prima la scena dell'omicidio di Luciana Biggi, ma poi ve ne parlerò alla fine, delitto di cui mi sono occupata io è quello di Melania Rea, dove il corpo di Melania rimane esposto in una pineta per almeno 48 ore da quello che sappiamo. Un altro luogo della scena del crimine può essere quello appunto del mezzo semovento, sia nei casi di omicidio stradale, ma anche no, o nei casi di disastro di massa. È anche vero che non è detto che il luogo dove noi rimpegniamo il cadavere sia la scena del crimine, cioè esistono diverse tipologie di scena del crimine. In che senso? La scena del crimine primaria è la scena del crimine dove è stato commesso l'omicidio o il reato, che non è detto che sia quella dove rimpegniamo il corpo. La scena del crimine secondaria è quella che può essere ad esempio stato utilizzato, perché come giustamente Marco diceva, è difficile che venga spostato un corpo, ma non è improbabile, perché molto spesso, soprattutto se l'assassino sa che ha a disposizione tempo e è sicuro, togliere il corpo, in tanti casi mi occupo prevalentemente purtroppo di femminicidi, di violenza di genere, in tanti casi conservare il corpo di mia moglie in casa non è proprio la cosa migliore di questo mondo e quindi il corpo, se so di avere un'utilità di tempo, un'immagine di tempo, lo trasporto in quella che può diventare una scena del crimine terziaria, come abbiamo visto, che può essere una discarica piuttosto che in mezzo a una strada o che dir si voglia. Come già vi è stato detto, a che cosa serve fare un sopralluogo su una scena del crimine? Innanzitutto la prima attività fondamentale è quella proprio della conservazione e dicevamo anche con Moreno quando gentilmente mi ha dato un passato questa mattina, in realtà voi che intervenite e che non è detto che interveniate materialmente, molto spesso siete i testimoni fondamentali perché potete essere quelli che per prime arrivano sulla scena del crimine che quantomeno la vedono integra, per come si presenta e potete avere il tempo di osservare lo stato delle cose e anche di cristallizzarle perché oggi come oggi fare un video con un telefonino è una cosa che tutti possono fare. Perché come vi è già stato detto la regola assoluta è che niente deve essere toccato, spostato possibilmente, modificato, cancellato o anche solo involontariamente inquinato. Quando preparavo le slide per questo corso mi è venuta in mente la prima domanda che mi fece dal master in criminologia forense, una delle prime lezioni, che un relatore ci chiese quando siete su una scena del crimine cosa è la prima cosa che dovete osservare? Provate! Anche io andrei a tentativo, eh! In realtà è qualcosa che vi riguarda molto più direttamente, cioè che la vittima sia ancora sentito oppure no. E' da qui che parte la difficoltà, perché è chiaro che questa regola va ad essere alterata se deve essere anteposto giustamente la necessità di tutelare la vita della vittima. è chiaro che in tutto questo appunto ci sono delle criticità che sono rappresentate al fatto che la vittima per fortuna non sia morta o che oltre alla vittima morta ci siano altri feriti presenti, dal fatto che possiamo essere appunto in una scena del crimine in un luogo aperto e che quindi questa scena possa essere alterata da degli agenti atmosferici o che su quella scena appunto come già è stato detto ci sia la presenza di personale non autorizzato curiosi o non specializzato o preparato. Questo un pochino ci ritorno, ma ve l'hanno già detto sia Marco che Gianluca, cioè che cosa va fatto per preservare la scena, delimitarla in modo che possibilmente vi sia un'unica via di accesso e di uscita, cercare di piantonarla e piantonarla che è un pochino una cosa che potete già iniziare a fare voi, vuol dire andare ad annotare tutti quelli che sono, tenere a mente tutti quelli che sono gli elementi che vi sembrano insoliti, non so, c'è una macchina che passa costantemente, c'è una persona che torna e se ne va, che ha un comportamento che per me è strano, perché poi io devo dire dalla mia esperienza che è più quella una premessa, faccio la criminologa ma io dico sempre, io faccio la psicoterapeuta in un ambiente, in un contesto che è criminologico e giudiziario, c'è in Italia che non è come nei film americani, le criminologhe o i criminologi non vanno con le tuttine da CSI e i pennellini sulla scena del crimine, questo non succede mai perché la nostra figura non è prevista, possiamo farlo in un momento che può essere immediatamente successivo perché nominate da una parte, ma non nell'immediatezza, quindi attenzione anche a delle visioni e immagini distorte che varrivano del nostro lavoro, perché questo è corretto insomma dirlo, diverso è il lavoro sui fascicoli che è molto più frequente che noi facciamo, quindi è chiaro che quando, questo lo dico perché quando mi è capitato più spesso di lavorare sui fascicoli, magari di analizzare testimonianze, quindi sit, o ascoltare, riconvocare dopo anni delle persone, la prima cosa che, oltre a aver racconto libero, abbiamo tecniche che sono di ascolto, che sono quelle della polizia, una prima domanda è, cioè una prima cosa che noi diciamo alle persone con cui parliamo è dimmi tutto, hai tralasciato cose che secondo te sono indifferenti, non importanti, perché paradossalmente quelle potrebbero essere le cose più importanti, è proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che voi siete sulla scena, c'è uno che va e che viene, magari è semplicemente uno curioso, magari no, e magari io questa cosa la rep totalmente irrilevante rispetto a tutta la scena che ho visto, tutto quello che devo raccontare e nemmeno lo riporto quel dato lì, in realtà quel dato incrociato alla testimonianza di altre due o tre persone potrebbe essere il dato significativo per quell'indagine. chiaro documentare e ricercare, quindi facendo foto, riprese, disegni, datati però insomma anche uno scarabocchio che serva a noi in quel momento e come vi è già stato detto assicurare e riportare una piccola cosa, preferibile la carta alla plastica perché la plastica fa sì che si producano batterie e quindi anche questo può creare un'alterazione. mi è capitato in un processo di omicidio, subvenendo di incontro che seguivo, di vedere il cancelliere arrivare in aula con un sacco della spazzatura nero alto così dove dentro c'erano i vestiti della vittima, i vestiti dell'imputato, l'ipotetica arma del delitto al di là dell'odore quando ho perso sto sacco in aula che siamo svenuti però questo vi parlo di 5-6 anni fa, quindi in realtà quando, come diceva giustamente Marco, vi diciamo cose ovvie, ma tocca dirle perché in realtà non sono così ovvie nel senso che non sono ancora diventato una prassi consolidata. È chiaro che un conto è l'attività che svolgono le grandi questure, i grandi comandi, un conto è l'attività anche investigativa e di sovralluogo che svolgono, cioè fateci caso, i casi di cronaca difficilmente succedono a Roma o a Milano, cioè i casi di cronaca che arrivano ad interesse mediatico e questo è un dato. E' chiaro che delimitare la zona, come giustamente vi diceva anche Marco, poi anche Gianluca, non è così molto semplice, pensate alla difficoltà di delimitare la scena del crimine nel caso di un disastro di massa. Queste sono le foto, ad esempio, della morte di Carlo Giuliani a G8, là c'è il colpo di un proiettile rimbalzato, cioè come vi diceva Marco rispetto all'immagine dei segni di pneumatico, cioè tutta quella zona in realtà rappresenta una scena del crimine, perché ogni elemento potrebbe essere significativo. E' chiaro che quello che dicevo prima di piantonare è importante per andare ad annotare anche come vi è stato detto, cioè è chiaro che voi dovete intervenire, quindi toccare, spostare, alterare, l'importante è che però poi lo dite, cioè lo annotiate, non solo così ciate, ma lo annotiate in modo che questo resti anche nel tempo. Perché poi essere sentiti in due anni e la fortuna, è una fortuna, 4-5 anni dopo, è chiaro che se non l'ho scritto e quindi cristallizzato in quel momento, lo perdo. E questo l'ho già detto. Importante andare a ricercare tutti quelli che sono dei segni caratteristici, come ad esempio di trascinamento, di lotta o di proiettili sulle pareti, quando giustamente faceva vedere la pedata sulle tracce di sangue e l'inquinamento della scena del crimine, ma oltretutto la BPA, cioè l'analisi delle macchie di sangue è un modo per analizzare la scena che ci dice che cosa è successo in quella scena. Quindi andarle ad alterare, anche semplicemente spostando il cadavere, ha un significato che chi poi su quella scena legge e a ritroso ricostruisce che cosa è successo, fondamentale. perché, ovviamente, come vi hanno detto tutto, l'obiettivo è quello di arrivare all'identificazione di un colpevole. Io oggi vi voglio portare la mia esperienza proprio per farvi capire quanto in realtà il qui ed ora sia importante all'infinito, perché io ho iniziato la mia attività lavorativa, ho avuto la gran fortuna di iniziare la mia attività lavorativa facendo parte di una squadra cosiddetta call case interna alla questura di Roma, voluta dal dottor Rizzi, che vedete qua in foto, che ebbe l'idea di istituire una squadra di poliziotti, ma anche esperti esterni per andare a riprendere dei casi vecchi, dei call case, un po' come penso che qualcuno di voi l'abbia visto, per andare a risolverli, a tentare di risolverli. Una squadra che ha avuto abbastanza risonanza anche mediatica, abbiamo visto giornali, telegiornali, cose così. Il principio, un po', ecco, come veniva detto nel telefilm, era questo, perché non si deve mai mollare, prima o poi il crimine, i conti con la giustizia e con la memoria delle vittime, li deve pagare. È chiaro che porto la mia parte, che è quella da psicoterapeuta, quando io lavoro con le vittime, quando lui prima diceva fargli quei vestiti, io parlo con i morti, ma nel senso vero, nel senso che, nemmeno tanto figurato, nel senso che in questa squadra, la mia attività è stata quella di fare prevalentemente l'analisi dei comportamenti seriali, dei vari ipotetici, insomma, colpevoli, e di fare quelle che vengono definite le autopsie psicologiche. L'autopsia psicologica è la ricostruzione a posteriori di quello che è il profilo della vittima, proprio per andare a comprendere perché l'assassino ha scelto lei come vittima e quindi ad andare a restringere la rosa dei possibili sospettati. Come vi dicevo era una squadra multidisciplinare, io e un'altra collega come criminologa, ma c'erano dei medici legali, degli esperti in balistica, eccetera, eccetera. E devo dire che abbiamo iniziato andando alla procura, agli attivi, a chiedere, abbiamo scelto di esaminare un range di casi che non andavano oltre i 14-15 anni, avvenuti tutti sul territorio di Roma, zone limutrofe, quindi la prima cosa è stata andare a prendere i fascicoli, e già quello è stato all'impresa, ve lo assicuro, e poi esaminarli insieme per vedere obiettivamente quelli che potevano essere più risolubili, ovviamente in base anche a quelle che erano le nuove tecnologie che magari al momento in cui l'omicidio era avvenuto non esistevano o non erano così avanzate. Proprio nell'importanza della repertazione è il primo caso di cui non mi sono occupata personalmente perché è stato il compito fondamentale, è stato quello del medico legalio, in realtà mi sono occupata più della parte seriale, è stato l'omicidio di Maria Scarfò, che come vedete viene uccisa nel 2000, in realtà noi risolviamo il caso nel 2007, quindi sette anni dopo, questo è proprio tanto importante perché no? Maria è una donna di 36 anni che insieme al fratello gestisce un bar in un quartiere di Roma, ha una vita esposata, una bambina piccola, quindi ha una vita assolutamente regolare e anche meticolosa, una sera chiude il bar intorno alle 20, sale a bordo della propria auto e scompare, viene rinvenuta qualche ora dopo, cadavere su una piazzola di sosta dell'autostrada. Io vi ho risparmiato un po' di immagini, non sono più sosta nella scelta, ok? Tanto credo che non mi manca, viene rinvenuta in questa piazzola con dei segni evidenti di violenza sessuale. All'alba del giorno dopo viene rinvenuta non lontana dal bar la sua automobile quasi totalmente carbonizzata. Il caso viene archiviato perché in realtà non ci sono riscontri, se non che proprio nel 2007 quattro studentesse di medicina vengono affiancate mentre sono a bordo della loro auto da un uomo che è armato di pistola, quindi si fa, le costringe a mettersi alla guida della loro autovettura, le porta in un posto isolato, cerca di abusare di una di loro, poi a un certo punto non riuscendo decide di scendere dalla macchina e rientra in carcere perché quell'uomo Sabatino da Lufonso era in realtà in permesso premio perché già detenuto per reati di violenza sessuali. Il modus operandi ci riporta a come era scomparsa Maria che quindi poi si ricostruirà, verrà costretta, avvicinata da quest'uomo armato che la costringe a passare sul sedile del passeggero, sale a bordo della sua auto minacciandola con la pistola, la violenta e poi la uccide a colpi di, oddio adesso mi viene, del manico della pistola e poi la getta il corpo nella piazzola di sosta. L'elemento fondamentale al di là della ricostruzione e della serialità perché in realtà poi andavano a ritrovare almeno una decina di altri casi di rapine a sfondo sessuali che avevano lo stesso modus operandi fu il fatto che Maria Scaffo andostava un salva slip, in quel salva slip trovano la traccia di DNA mista della vittima e di D'Alfonso. Questo fu a sette anni di distanza l'elemento fondamentale. La parte fondamentale è stato che quell'assorbente è stato ricordato e conservato per sette anni nella maniera corretta, già averlo inserito in una busta di plastica ci faceva perdere qualsiasi riscontro. Un altro caso che è stato risolto fu quello dell'omicidio di questa signora, una maestra in pensione che venne rinvenuta cadavere nella sua abitazione, strangorata con una delle sue calze che utilizzava, vedete uccisa nel 2004, noi risolviamo il caso a 14 anni dopo. Anche qui è stata fatta un'analisi di serialità rispetto a una serie di rapine che erano state messe in atto da una banda di rapinatori all'epoca dei fatti di Liliana, tutti i minorenni, che utilizzavano questo metodo, avvicinavano gli anziani con modi gentili, soffrivano di portare la spesa, quindi si facevano portare fino a casa, poi con una scusa li sedavano e semplicemente rapinavano. Nel caso di Maria qualcosa andò storto, probabilmente lei si è accorta di qualcosa e quindi alle spalle è stata strangolata con una delle sue calze. In quella scena del crimine viene ritrovata un'impronta digitale parziale. All'epoca non esisteva ancora l'afis e quindi non c'era stata la possibilità di fare un confronto tra quell'impronta parziale e a chi appartenesse. L'afis è un sistema di archiviazione delle impronte digitali e abbiamo potuto fare questo riscontro. Importante in questi due casi è stata anche la creazione del SASC che è un sistema per analisi della scena del crimine dove all'interno del quale vengono inserite le caratteristiche fondamentali delle scene del crimine, cioè il luogo, modus operandi, le caratteristiche fondamentali che permette al sistema poi di incrociare scene del crimine che hanno caratteristiche similari e quindi di metterle in correlazione tra loro. Ecco, vi ho parlato del modus operandi giusto proprio per darvi degli spunti criminologici. Che cos'è il modus operandi? Lo sapete? è uno schema di comportamento. In realtà l'errore comune è quello che si è portato a pensare che un omicida, il modus operandi non è solo degli assassini, ma può essere anche di un rapinatore, comunque che il modus operandi rimanga invariato nel tempo. In realtà non è così perché il modus operandi, essendo uno schema comportamentale, proprio come qualsiasi altra forma di comportamento, tende a mutare nel tempo in base alla funzionalità e in base anche all'esperienza. Questo che cosa vuol dire? Che di solito questo riguarda sia i serial killer che i rapinatori seriali. Facciamo l'esempio del rapinatore. La prima rapina la farò nel supermercatino sotto casa, facendo finta di avere una pistola dentro la tasca della felpa, portando via niente. Da lì la mia carriera criminale mi porterà a cambiare le modalità, farò sempre rapine, ma arriverò a fare rapine a mano armata, in posti sempre più lontani, magari anche in una filiale di banca, non nel supermercato sotto casa. Quello che rimane sempre invariato è quella che sentite definire la firma dell'autore, che in termini un po' più specifico vengono definiti i marker specifici. Quelli restano invariati nel tempo e questi marker specifici sono stati fondamentali nella risoluzione di un altro call case, che era l'omicidio di un ragazzo, Gianluca Pes, qui vedete, sopra l'uogo un po' più un po', anche se è più recente, un po' discutibile, brava, che non si fa come lo so. Un ragazzo che viene ucciso in quello che è il suo parcheggio condominiale, di fianco alla sua moto, quindi lui arriva con la moto, scende, la parcheggia scende, gli sparano e muore. In realtà viene ritrovato con tutti gli oggetti di proprietà. Che succede? Che il bossolo con cui viene ucciso Gianluca Pes è un bossolo che è stato sparato, anche utilizzato, anche in un'altra rapina, cioè proveniente da una pistola che è stata utilizzata anche in un'altra rapina. In realtà cos'è successo? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una ricostruzione del comportamento seriale di questo soggetto che aveva iniziato tanti anni prima a fare delle rapine in maniera molto rudimentale, cioè lui aspettava le vittime quando entravano nei loro parcheggi condominali, quindi nel momento in cui siamo più tranquilli, prevalentemente donne, le avvicinava facendo credere di avere una pistola dentro la tasca a volto scoperto e si faceva dare quello che le vittime possedevano in quel momento, quindi orecchini, cellulare, i pochi soldi. Quelle vittime hanno fatto degli identikit. Poi il suo modus operandi è cambiato, nel senso che si è comprato una pistola a giocattolo, l'ha resa credibile e ha iniziato a fare delle rapine utilizzando questa pistola a giocattolo coprendosi il viso, prima con una bandana, quindi solo parzialmente e poi con un passamontagna, finché sempre parcheggi condominali, finché un giorno non arriva a rapinare una guardia giurata, alla quale chiede l'arma di servizio. L'arma giurata gliela dà, perché crede che lui sia realmente armato, nella rapina successiva esplode un colpo a vuoto e nella rapina successiva uccide Gianluca Pesso. Qual è il marker? Al di là del luogo, il fatto che questa persona dicesse sempre ad ogni rapina sono l'ispettore Zanardi, che è un ispettore di funetti che esiste, in realtà diceva solamente questo sono l'ispettore Zanardi, dammi tutto quello che hai e questa cosa viene in realtà riscontrata in quasi 20 rapine, quindi la nostra attività è stata quella di ricostruire tutta la carriera criminale di questa persona, che era stata in realtà in primo grado condannata per una decina di rapine ma assolto per l'omicidio di Gianluca e poi la procura ricorsa in appello in corte d'assise d'appello è stato condannato per l'ergastolo di Gianluca che era stato ucciso nel 2004 e il caso è stato risolto nel 2008. Anche qui la repertazione è stata ovviamente fondamentale, anche grazie alla possibilità della comparazione tramite questa banca dati, che come vi diceva Gianluca ogni arma ha una rigatura specifica e quindi questo non so se lo sapete, è un'info volante e quindi ogni arma produce dei segni sui proiettili che sono una sorta di impronta digitale. Ok, l'ultimo caso di cui proprio velocissimamente vi parlo, quello che penso conoscerete tutti proprio per l'importanza, ma in questo caso sapete Melania viene uccisa, in realtà scompare, viene rinvenuta più o meno 48 ore dopo perché scompare il 18 aprile viene rinvenuta il 21 aprile, quando il cadavere viene rinvenuto il medico legale che si presenta, si presenta senza calzari, con i capelli sciolti, giusti guanti, senza un termometro. Ho partecipato a questo caso come consulente della famiglia Rea, non vi dico quanto si sia disquisito sulla ovviamente datazione dell'epoca della morte, perché questo è significato non avere un termometro per una misurazione in quel momento, e quanto si sia disquisito sulla presenza di capelli di donna, penso che l'avrete sentito anche in tutte le varie trasmissioni, sul corpo di Melania, quindi chiamata in causa Ludovica e tutta la sfilza da amanti che Salvatore poteva aver avuto in quegli anni, perché quei capelli erano in assenza di vulvo e quindi non era possibile fare un DNA e quindi confrontarli con quelli della dottoressa e ovviamente aprivano lo spazio all'interno di un'aula processuale di quello che viene definito il ragionevole dubbio. Spero di avervi dato uno scenario abbastanza importante di quello che è in realtà la complessità, lo sapete anche voi, dell'intervento, ma quando in realtà un intervento accurato, come diceva Gianluca, ognuno per quello che sono le nostre competenze, ma nel momento in cui interveniamo diventiamo tutti testimoni e quindi il nostro contributo potrebbe essere, il nostro operato su quella scena del crimine potrebbe essere fondamentale oggi, tra due anni, ma come avete visto anche tra 4 a 10 anni, le scienze forensi avanzano e quindi non è detto che tra 10 anni potremmo risolvere anche, pensate al caso di Via Coma, adesso, esatto, di in realtà un caso che poteva andare in una certa direzione è stato arrestato, si è fermato proprio per una conservazione non esattamente corretta di quel corpetto, quindi con una possibile contaminazione. Io vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.